La riunione avrà luogo nell'apposita La riunione avrà luogo nell'apposita La riunione avrà luogo nell'apposita Intanto l'articolo 69, la contestazione delle cause di inelegibilità e di compatibilità Cioè quelle proposte dal consigliere Giovanni Marino nei giorni scorsi Riportate già dalla stampa contro il sindaco Meduri L'articolo 69 al Comma 3 recita che nel caso in cui venga proposta l'azione di accertamento In sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70 Il termine di 10 giorni previsto dal Comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso Al Comma 2 dell'articolo 69 poi la contestazione delle cause di inelegibilità e di incompatibilità L'amministrazione locale ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di inelegibilità sopravvenute In questo caso le cause di inelegibilità o incompatibilità non sono sopravvenute ma eventualmente esistevano già E probabilmente l'amministrazione comunale intende appunto formulare le osservazioni al ricorso E intende farlo nei termini previsti appunto dalla normativa Ma l'articolo 70 poi c'è l'azione popolare contro la decadenza della carica di sindaco Presidente della provincia o consigliere provinciale o comunale Che può essere proposta in prima istanza così come è stata proposta da qualsiasi cittadino elettore del Comune Da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile con ricorso da notificare all'amministrazione Ovvero agli amministratori interessati nonché al sindaco o al presidente della provincia ma in questo caso al sindaco Quindi il ricorso è stato notificato L'azione può essere quindi promossa anche dal prefetto ma non è stata in questo caso proposta o proposta dal prefetto Per tali giudizi al comma 3 dell'articolo 70 si osservano le norme di procedura e di termini stabiliti Dall'articolo 82 del DPR 16 maggio 60 numero 570 Ma al comma 4 è da dire che contro poi la sentenza del Tribunale Quindi eventualmente il Tribunale darà ragione a Marino o a chi ha proposto il ricorso al cittadino Contro questa sentenza sono ammesse le impugnazioni e i ricorsi previsti appunto dalla normativa Quindi il decreto legislativo poi l'1 settembre 2011 numero 150 Recita che delle azioni popolari e delle controverse in materia di elegibilità, decadenza o incompatibilità Nelle elezioni comunali le azioni popolari e impugnative consentite per quanto concerne appunto queste elezioni Sono di competenza del Tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo Quindi significa che questa appunto impugnativa sarà discussa presso il Tribunale di Reggio di Calabria Il Tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa anche il Pubblico Ministero Ma attenzione perché anche avverso questa sentenza dicevamo è ammesso un ricorso Vedo a dire che il ricorso è stato presentato solo ora a distanza quindi di qualche mese dalle elezioni E il punto del comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 2011 numero 150 Recita invece che il ricorso verso le deliberazioni adottate in materia di elegibilità Deve essere proposto appena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione Ovvero dalla data della notificazione di essa quando è necessaria il termine poi diventa di 60 giorni Se il ricorrente risiede all'estero e che in questo caso almeno dalle notizie che abbiamo Il ricorso è stato proposto anche da una persona residente all'estero Quindi il ricorso contro la decadenza e l'ineleggibilità del sindaco Meduri I termini della notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono quindi perentori E contro l'ordinanza poi che pronuncerà il Tribunale il prossimo 25 settembre Può essere proposto comunque l'appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale O da chiunque altro vi abbia interesse ma anche dal procuratore, anche dal prefetto Quando ha proposto però l'azione di ineleggibilità che in questo caso non ha proposto Ne conviene che qualora il sindaco Meduri dovesse essere dichiarato decaduto L'efficacia esecutiva dell'ordonanza pronunciata è sospesa in pendenza di appello Ed è chiaro che il sindaco Meduri o chi ne ha interesse presenterà l'appello Quindi anche in questo caso, anche in caso di accoglimento del ricorso proposto da Marino O comunque da un elettore nei confronti del sindaco Meduri E come previsto dal decreto legislativo 1 settembre 2011 numero 150 Richiamato nell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale Contro la decisione anche poi dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale Abbiamo detto che c'è, è sospesa questa ordinanza in pendenza di appello Ma anche quella di appello, qualora soccombente, rimane pendente fino al ricorso in Cassazione Che deve essere proposto comunque entro 30 giorni dalla sua comunicazione Perché diciamo questo? Perché comunque anche nel caso in cui il Tribunale di Reggio Calabria Dovesse decidere sulla ineleggibilità del sindaco Il sindaco non decadrebbe dalla sua carica fino al pronunciamento della Corte di Cassazione Ma i ricorsi come dicevamo presentati appunto contro Meduri sono due Uno appunto sulla ineleggibilità dello stesso Meduri L'altra invece sulla ineleggibilità dichiarata del consigliere Marino Che sostituito dall'altra consigliere chiede appunto di rientrare il Consiglio In questo caso il giudice, se accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni E sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo Quindi potrebbe il consigliere Giovanni Marino rientrare subito in Consiglio Comunale E' chiaro che tutta la controversia è trattata in ogni grado in via d'urgenza Quindi anche sul ricorso che prevede la ineleggibilità del sindaco Qualora venisse accolto in prima istanza al Tribunale di Reggio di Calabria Abbiamo altri due gradi di giudizio fino all'eventuale decadenza del sindaco Questi i temi in discussione al prossimo Consiglio Comunale Che ripetiamo è stato appositamente convocato dal Presidente del Consiglio Comunale di Merito di Porto Salvo Per giovedì 27 agosto 2015 alle ore 16